Una breve presentazione dell'ammortizzatore che Olins ha prodotto con tecnologia TTX per il BMW GS diciamo vecchio modello dal 2012 indietro. Olins ha voluto questo ammortizzatore perché BMW è comunque stato da sempre un brand importante quindi ha usato il meglio che al momento c'è quello che viene usato in MotoGP e che viene usato in Superbike quindi appunto TTX. TTX è sostanzialmente un ammortizzatore a doppio tubo che dà dei grandi vantaggi perché riesce a lavorare a pressioni più bassi più bassi ha un bilanciamento interno molto alto per cui la sensazione il feeling del pilota è alta. Per quelle che sono anche le nostre prove anche personale per esempio io guido questa moto l'aumento di comfort è grandissimo aumenta la sicurezza perché la moto è molto più stabile quindi si sta più comodi e si sta più sicuri in particolare il passeggero non avrete quei colpi secchi nelle pezze della strada o nelle buche quando si carica non c'è questa sensazione di avere di guidare un chopper con la moto molto più cos'è comunque quell'ondeggiamento che si innesca quando si trovano degli ondeggiamenti sulla sulla strada e ha la caratteristica principale di renderla la guida più piacevole la moto rimane più sostenuta e contemporaneamente rimane più poca diciamo che in un viaggio di centinaia di chilometri quando si arriva la differenza è proprio avere la schiena a pezzi e invece sentirsi ancora con la voglia di fare altra strada questo ammortizzatore è completamente regolabile quindi compressione e ritorno e il manettino che viene abitato attraverso la propria staffa all'esterno per precaricare la molla il kit comprende l'ammortizzatore posteriore e anche l'ammortizzatore anteriore anch'esso di tecnologia TTX quindi credo di darvi un consiglio e un buon consiglio chiedendovi di provarlo perché quando si fanno dei chilometri è veramente un investimento importante per la schiena per la salute e soprattutto per chi è la mente vorrebbe mandata migliormente sangue sangue sangue